Oggi parliamo di fiori di Bach per vedersi davvero e scopriamo insieme quali sono. Seguimi! Ma prima di iniziare ricordati di iscriverti al nostro canale YouTube utilizzando il pulsante iscriviti che trovi qui sotto e dopo clicca sulla campanellina per ricevere ogni notifica relativa alla pubblicazione dei nostri video. Fiori di Bach per vedersi davvero. Rispondo alla richiesta di Francesca che mi chiede tantissime cose tutte insieme. Mi scrive Il mio desiderio più profondo è di capire chi sono, quali sono i miei talenti per metterli al servizio di me, come realizzazione per gli altri, come soddisfazione e appagamento. Faccio fatica a vivere lavorando per settori a cui non mi interessa dare energia emotiva e intellettuale e a cui non interessa riceverla, in quanto devi essere un automa o peggio uno schiavo per soddisfare le esigenze aziendali, senza nessun ritorno, nemmeno monetari. Per cui vorrei poter trovare lo slancio giusto per interiorizzarmi, dialogare con la mia anima e sentirmi dire, sì, è la strada giusta. Vorrei, e mi dicono che vorrei, non è l'inizio giusto, in quanto va trasformato in voglio. Che fiori possono aiutarmi a trovare appunto il giusto slancio, in quanto sono titubante, sfiduciata e soprattutto bloccata sui pensieri più che sulle azioni? Allora, questo video, Vedersi davvero, ho scelto di farlo e ho scelto di rispondere a Francesca per un motivo molto specifico, che ritrovo in questo scritto da parte sua, ma ritrovo nelle richieste anche di tante altre persone. Il problema qual è? Che quando noi viviamo, io parlo spesso di repressione e proiezione, di questi due movimenti che facciamo quando reprimiamo la nostra energia e contemporaneamente quando la reprimiamo la proiettiamo all'esterno. Quando noi pratichiamo questo movimento che è automatico, ovviamente deriva da tutta una serie di sovrastrutture che noi abbiamo nella nostra mente, tendiamo a non vedere la stratificazione della vita in più livelli. Allora, perché io ho detto fiori di Bach per vedersi davvero? Perché sarebbe importante capire che noi non siamo un condensato di energia e sblocchiamo una cosa e tutto va a posto, ok? È come se io avessi in mano un libro, sto leggendo questo libro e siccome il libro mi interessa, salto tutto quello che sta succedendo, vado alla fine e leggo l'ultima pagina. Nessuno legge un romanzo in questo modo. La vita è la stessa cosa. Noi pensiamo inconsciamente, proprio perché siamo repressi, che dovremmo trovare dentro di noi l'energia per sistemare tutto insieme. Questo non è possibile, non accade, non accade mai. Io ho assunto 12 anni i fiori di Bach, piano piano, lavorando una dinamica dopo l'altra, concentrandomi e focalizzandomi su una dinamica dopo l'altra. Quindi vedersi davvero significa vedersi a 360 gradi, da tantissime prospettive diverse, e vedersi anche proiettati nel tempo. Quindi abbiamo tante dimensioni in cui ci dobbiamo vedere. Io non posso pensare, non ve l'ho letto, l'ho tralasciato per non mettere troppa carne al fuoco. Francesca mi chiede, non ho nemmeno lo slancio monetario. Lo slancio monetario dipende da tantissimi aspetti, da quanto so gestire il denaro, da quanto guadagno, da quanto risparmio, da quando non spendo in stupidate. Non sono tutte queste caratteristiche apprendibili in un solo modo. C'è lo sviluppo da fare. È sempre una questione di come io mi vedo in prospettiva nel mio futuro. E quindi sceglierò di investire le mie energie innanzitutto, perché il capitale più importante che noi abbiamo a disposizione non è il denaro. È l'energia che noi abbiamo a disposizione quotidianamente. E qui facciamo un altro passo indietro. Se io sono una persona che ha subito diversi traumi, che ha una condizione di partenza a livello emozionale, a livello psichico, non favorevole, la gran parte della mia energia va a gestire i traumi. Perché io li devo tenere sotto il livello della coscienza, perché se emerge il dolore emerge la sofferenza e io sto male. Questo richiama anche le esperienze fotocopie, quelle che noi chiamiamo le bolle in floriterapia transpersonale evolutiva. Cioè, se io ho sofferto per una cosa che è successa nella mia infanzia, e oggi mi succede che nella mia vita vivo una situazione molto molto simile a quella che ho vissuto allora, si replica quella sofferenza. Dentro di me rivivo una sofferenza simile a quella che ho vissuto in passato. Che tra l'altro non so ricondurre, perché non riesco a capire che è collegata con qualcosa che mi è successo in passato. Quindi, il discorso che noi dobbiamo fare qual è? Prendiamoci il tempo di lavorare su di noi, passo dopo passo, giorno dopo giorno, mese dopo mese, anno dopo anno, e impariamo a guardarci in una prospettiva stratificata. Tempo e spazio insieme. perché se noi pretendiamo, e io capisco l'intento di Francesca che è buono, perché lei vuole risolvere, come la maggior parte di noi, i suoi problemi, ma se noi prendiamo dalla matassa del filo e tiriamo fuori il filo, che cosa succede? Che tutta la matassa si annoda e diventa ancora più complicato riuscire a sciogliere i problemi, ok? Perché noi con la convinzione, con l'intento, possiamo decidere di prendere un pezzo per volta della nostra vita e pensare, ok, per questi tre mesi mi focalizzo su questo e faccio questo e non mi occupo di altro. tendo a risolvere questo problema, questa dimensione, questa dinamica. Capite perché vi dico vedersi davvero? Allora, per vedersi davvero, sicuramente un fiore come Cessna Bad, che è un grande equilibratore, un grande portatore di consapevolezza, ci aiuta ad apprendere le lezioni che non siamo in grado di apprendere. E questo sicuramente è buono. Però la nostra scelta interiore può essere diversa da quella di dire ah, voglio cambiare completamente la mia vita quando sappiamo invece che ci sono tantissimi pezzettini della nostra vita che vanno messi a posto. Allora, aiutiamoci certamente con i fiori, ma dobbiamo capire che è fondamentale prendere e risolvere un problema per volta, poi un altro, poi un altro, poi un altro e se focalizziamo così le nostre energie, allora tra cinque anni, quattro anni, tre anni, avremo, credimi, una vita completamente diversa rispetto a quella che viviamo ora. Quindi l'invito è osservarsi, cercare di capire quali sono le priorità da risolvere e focalizzarsi su una di queste alla volta, aiutandosi con i fiori. E chiaramente Cessna Bad, come detto, può essere un grande aiuto per fare questo, ma la scelta interiore deve essere prima quella di volersi vedere davvero, di capire quali sono le priorità e cominciare da quelle. E poi, un passo alla volta, si fa tutta la strada della vita. Non si arriva in fondo al libro saltando tutto quello che è il godimento della vita, perché è anche bello capire che abbiamo un problema, capire come risolverlo e poi buttarcelo alle spalle. Sono Max Volpi e sono il fondatore del sito ifioridibac.com, nonché l'ideatore della floriterapia transpersonale evolutiva e delle costellazioni floreali. Se vuoi approfondire i fiori di bacch e ricevere tutti i contenuti gratuiti riservati ai nostri iscritti, oltre a un ebook da scaricare di 140 pagine sui fiori, clicca il link che trovi qui sotto nelle note. Grazie, ciao.